Noi abbiamo prova dell'esistenza delle mafie, della nascita delle mafie, dal punto di vista documentale, con l'Unità d'Italia. Nel 2011, dire il vero, mi sarei aspettato qualcosa in più dagli storici, da quelli che scrivono libri che poi vengono adottati nelle scuole, utilizzate nelle scuole. Mi sarei aspettato una rivisitazione, ad esempio come è stato per le foibe, mi sarei aspettato una rivisitazione della storia dell'Unità d'Italia. Perché l'Unità d'Italia è stata scritta da storici soprattutto del Nord. Sì, qualcuno dice, sì, ma c'è Rosario Villari, professore universitario a Roma, alla Sapienza. Sì, Rosario Villari è nato nella Pianigia di Tauro, ma è vissuto, si è cresciuto a Roma. Ora, perché dico questo? Perché, se voi ci pensate, Garibaldi si è fatto una passeggiata salendo l'Italia fino ad arrivare a Teatno. Non mi pare che c'è stato un grande scontro, conflitti. I mille non erano solo Garibaldini partiti, erano mille, ma durante il percorso se ne sono aggiunti tanti, soggetti che poi identificheremo come picciotti. Spesso per comodità e per certa miopia storica è stata confusa la picciotteria con il brigantaggio. Oggi ancora degli storici, dei professori, di gente che formalmente insegna nelle scuole, omologano il brigantaggio alla picciotteria, che sono due cose completamente diverse. Perché i meridionali hanno questa eritrosia? Perché considerano lo Stato un nemico da fregare? Perché il popolo meridionale non si è mai sentito legato allo Stato centrale? L'Unità d'Italia non è stata discussa, è stata imposta. È stata imposta con la forza e con l'inganno. Qualcuno di voi ha sentito parlare naturalmente delle fosse datine. Ogni tedesco ucciso, dieci romani uccisi. Ebbene, in nome dell'Unità d'Italia, ogni piemontese venivano uccisi mille meridionali. Ogni piemontese ucciso durante l'Unità d'Italia.